Anifrolumab è un anticorpo monoclonale approvato di recente per la terapia del lupus eritematoso sistemico. Rappresenta un'azione terapeutica importante, se ne è parlato qui a Rimini al sessantesimo congresso della Società Italiana di Reumatologia e noi facciamo il punto su questo farmaco col professor Matteo Piga per farci raccontare dei dati nuovissimi appena presentati la CR al congresso americano dei dati a lungo termine che danno un inquadramento importante su questa terapia. Professor Piga, di che studio si tratta? Qual è il trial presentato all'ultimo congresso americano, la CR, che riguarda la nifrolumab? I dati che sono stati presentati sono dati di subanalisi della valutazione prospettica del Long Term Extension Study che ha considerato i pazienti arruolati nei trial clinici randomizzati controllati Tulip 1 e Tulip 2 e li ha seguiti prospetticamente per tre anni, soprattutto per avere dati sulla sicurezza del farmaco, ma si sono potuti estrapolare anche dei dati sulla efficacia a lungo termine. Allora, incominciamo dall'efficacia. Cosa ci hanno detto questi dati? L'efficacia si mantiene nel tempo? Ecco, che tipo di conferme vi hanno dato questo studio? Il dato più interessante è che è stato confermato innanzitutto la rapidità d'azione del farmaco, quindi una modifica dell'attività di malattia che si osserva già dalle prime settimane di trattamento rispetto al braccio del placebo e che si mantiene per tutta la durata dello studio. Ma ancora più interessante è il tasso di remissione nei pazienti trattati con nifrolumab, che è significativamente superiore già dalle prime settimane d'azione e raggiunge la significatività statistica a partire dai sei mesi per poi mantenerla in tutta l'osservazione, fino a quattro anni, dove si raggiungono tassi di remissione del 60%, che possiamo dire è un grosso traguardo per questi pazienti, considerati refrattari già all'inizio della terapia. Senti, invece sul versante sicurezza che informazioni ci ha dato questo studio? La sicurezza del farmaco è confermata, abbiamo un profilo di safety molto tranquillo, sovrapponibile a quello del placebo, il che ci rassicura ancora di più, avvalorando i dati che erano emersi dai trial clinici randomizzati e controllati, su un buon profilo di sicurezza di nifrolumab. Perché questo studio è importante, professor Piga? È importante perché ci conferma che il farmaco può essere utilizzato con sicurezza ed efficacia per lunghi periodi di tempo e perché la sua efficacia, essendo provata in pazienti con attività di malattia moderata severa, ci garantisce un'arma in più per garantire un buon raggiungimento anche di una qualità di vita sostenibile per questi pazienti. Professor Piga, tenendo conto di questo studio, degli studi precedenti e anche naturalmente delle indicazioni approvate, qual è il posto in terapia del farmaco? Oggi il posto in terapia di nifrolumab è riservato ai pazienti con attività di malattia moderata severa, che abbiano necessità di una rapida efficacia e di una rapida riduzione dei glucocorticoidi, in particolare in presenza di manifestazioni mucocutane e muscoloscheletriche attive.